Fantastico gioco ragazzi, veramente bello, andiamo a guadagnare soldi veri giocando al gioco del bowling chiamato Strike Air Sports Bullying ragazzi Bentornati ragazzi in questo nuovo video, sono sempre io Felix, oggi ragazzi andiamo a vedere una fantastica applicazione, un fantastico gioco sia per iOS, iPhone che per Android ragazzi Che ci fa guadagnare soldi gratuiti su Paypal, ci fa guadagnare premi ragazzi, questa applicazione qui è americana, avremo bisogno come vedete di un fake GPS, vi lascerò il link qui sotto in descrizione del gioco e vi lascerò il link anche di fake GPS Questo gioco funziona solo con questo fake GPS ragazzi, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo installare tutte e due le applicazioni, ok, dobbiamo lanciare fake GPS, impostarlo sugli Stati Uniti Dopodiché ragazzi andiamo a giocare all'applicazione, una volta che abbiamo avviato l'applicazione ragazzi, dobbiamo registrarci, ok, mettiamo i nostri dati Andiamo a verificare l'email, questa qui è una cosa molto importante e se volete per ricevere un bonus di 10 dollari per giocare dovete mettere il codice promozionale Ma adesso ragazzi andiamo a vedere come giocare a questo gioco qui del bullying in modo completamente gratuito ed incominciare a guadagnare soldi gratis e premi Ma prima di tutto ragazzi volevo come sempre invitarvi ad iscrivervi al mio canale di Youtube chiamato Felix, attivate la campanellina ragazzi Se volete sempre rimanere aggiornati questo qui è un consiglio su queste app che fanno guadagnare soldi veri ragazzi E su questi tipi di applicazioni qui esistenti sia per iOS che Android ci saranno molti aggiornamenti, ce ne saranno molte altre Bene ragazzi, incominciamo col tutorial, io ho già scaricato le due applicazioni, faccio partire fake GPS, seguitemi ragazzi Ok funziona così, andiamo sugli Stati Uniti, come vedete in centro c'è questo cerchio blu piccolino Come vedete andiamo su Stati Uniti, ok e in alto nella destra andiamo a premere su Start Che cosa è successo ragazzi? Praticamente il nostro GPS è sugli Stati Uniti Quindi qualsiasi applicazione che noi stiamo usando pensa che noi stiamo usando l'app dagli Stati Uniti Quindi che cosa succede adesso? Ritorniamo nella home, ok il nostro fake GPS è attivo come vedete Fake GPS è in esecuzione, perfetto adesso andiamo ad avviare la app Fantastico gioco ragazzi, veramente bello Andiamo a guadagnare soldi veri giocando al gioco del bowling Chiamato Strike Air Sports Bowling ragazzi Veramente una bella applicazione, veramente un bel gioco E come vedete ci troviamo qua, basterà andare a strisciare il dito sullo schermo A voi ragazzi vi farà fare un tutorial per capire l'applicazione Mi raccomando iscrivetevi a questa applicazione qui Andate ad attivare il vostro account tramite l'email, ok? Per avere il vostro account già impostato E come vedete una volta che abbiamo effettuato l'accesso ci troveremo nella nostra dashboard principale In alto nella destra abbiamo i soldi, come vedete io attualmente ho 18 dollari e 60 centesimi In centro ragazzi abbiamo queste monete chiamate Z, io ne ho 212, le monete ci serviranno solo per entrare a far parte del gioco Per giocare contro le altre persone, qui andiamo a giocare contro le altre persone che si sono iscritte al gioco del bowling A sinistra invece ragazzi ci sono i ticket, quelli in rosso come vedete io attualmente ne ho 666 Ci vado a premere sopra I ticket ragazzi ci servono proprio per guadagnare i soldi e guadagnare i premi e oggetti vari E come vedete ragazzi il prelievo minimo è di un solo 1 dollaro e ci verranno 20.000 ticket Si va fino a 2 dollari, 5 dollari Ci sono altri premi ragazzi come uno spinner, delle magliette tutte basate sulla skills Skills praticamente sono loro che hanno creato questa applicazione qua ok Molto famosa in America ragazzi, 10 dollari bonus cash Come vedete ci sono delle cover, si arriva fino a 100 dollari ragazzi anche E come vedete più ticket abbiamo più andiamo a guadagnare Possiamo guadagnare ulteriori oggetti ok Guardate qua ragazzi possiamo guadagnare perfino delle auto Questa applicazione qui è una americanata si dice Il gioco è completamente gratuito ma se vogliamo andare a giocare cash Vuol dire andare a giocare i soldi ok Andando a sfidare le persone Basterà andare a premere in alto nella destra Ok dove ci sono i soldi E qua ragazzi inserite il codice promozionale che vi lascio in descrizione Dopo potete andare a depositare Se depositate 10 dollari vi darà ulteriori 10 dollari di bonus Quindi avrete 10 dollari di bonus gratuiti per andare a giocare Sempre in questa pagina qua andiamo come vedete su guadagna più Z La moneta Basterà premere su riscuoti e regalo gratuito Questa qua è una cosa gratuita ok Come vedete ogni due ore mi dà delle monete e vanno tutte in centro Le monete Z ci servono per giocare ragazzi Per andare a giocare qua intanto andiamo a vedere la nostra dashboard Come vedete io ho vinto 3 dollari ok Andando a sfidare le persone Per andare a giocare o gratuitamente o andare a giocare ragazzi Con i cash con i soldi Basterà premere su play qui sotto E come vedete ok Qua intanto ci sono degli eventi da 200 dollari L'entrata è 2 dollari E come vedete ci sono le pratiche qui sotto ragazzi Come vedete dove praticamente andiamo a giocare in modo gratuito Ci andiamo a scommettere le monete Come vedete con novice L'entrata come vedete qua in basso nella destra in piccolino Mi gioco una moneta Z e ne vado a vincere 2 se vinco Questa qui è quella più piccola E oltre le monete vado a guadagnare il ticket I ticket ragazzi questa qui è una cosa molto importante Li vado a guadagnare sia che vinco o sia che perdo ragazzi Quindi più giochiamo alla app più ticket andiamo a guadagnare E ovviamente più arriviamo al prelievo minimo Quindi sia che vinciamo che perdiamo Vinciamo sempre dei ticket Ovviamente se andiamo a vincere andiamo a vincere anche le monete E queste qui sono tutte le sfide gratuite Ok chiamate Pratic qui sotto per andare a giocare a questa app Quindi è completamente gratuita Sia per guadagnare i soldi sia per guadagnare dei premi Se vogliamo invece ragazzi andare a giocare i cash Come vedete si parte da un dollaro L'entrata è di 60 centesimi di dollaro Che cosa succede? Se vado a sfidare una persona e vinco Vinco un dollaro Se perdo o se vinco non cambia niente Vinco 50 ticket ragazzi Sia se vinco sia che perdo Quindi adesso vi voglio fare capire Intanto vi faccio vedere che si possono vincere anche 5 dollari 10 dollari 20 dollari 50 dollari fino a 100 dollari E le entrate le vedete sempre in basso nella destra Andiamo a provare a vincere un dollaro ragazzi Bellissimo gioco Premo su play Come vedete l'abbiamo impostato col fake gps in america E possiamo giocare Se mettiamo in Italia non possiamo giocare il gioco dello strike Come vedete bellissima la grafica Ok finalmente una bella applicazione per guadagnare soldi e premi ragazzi Adesso vi faccio capire Come vedete in alto intanto abbiamo la tabella Ok dei punti Qua se premiamo dietro la palla Destra e sinistra Andiamo a spostare in questa direzione il tiro Se invece andiamo davanti alla palla a premere Come vedete va in diagonale Noi intanto lo mettiamo in centro Per andare a colpire i birilli e lanciare la palla Dobbiamo trascinare la palla indietro col dito E la trasciniamo anche in avanti Non dobbiamo lasciare quindi facciamo così Come vedete ragazzi veramente bella Ci fa vedere anche il replay Come vedete veramente un fantastico gioco Per guadagnare soldi gratuiti e premi Con un'unica applicazione Qua andiamo a mirare Ok Ancora Intanto mentre noi stiamo giocando Anche quell'altra persona sta giocando E alla fine chi fa più punti ovviamente vince Non vi preoccupate se perdete Perché i ticket sono gratuiti E li vinciamo sempre Sia che vinciamo sia che perdiamo Quindi diamo ad effettuare un altro colpo Come vedete intanto in alto la tabella si aggiornata Ho fatto 8 punti Andiamo ad effettuare uno strike No ragazzi niente strike È rimasto un birillo Guardate che grafica che c'ha ragazzi Veramente innovativo questo gioco qua Ok Ci fa vedere anche il replay Possiamo dare l'effetto anche alla palla ragazzi Adesso vi faccio vedere Lo vado a spostare in diagonale Se vado ad effettuare Vado indietro col dito Ma vado in diagonale Non vado in centro col dito Ok Vado a dare l'effetto alla palla Quindi che cosa faccio ragazzi Diamo l'effetto alla palla Come vedete Io praticamente mi sono giocato 60 centesimi di dollaro E se vinco vado a guadagnare un dollaro Bisogna che vinco Quasi ragazzi Come vedete Intanto in alto sto guadagnando i punti Neanche uno strike Ma una volta che abbiamo preso la mano a questo gioco qua ragazzi Andremo a guadagnare veramente un sacco di punti E potremo vincere contro gli altri utenti iscritti al gioco E come vedete ragazzi Ho finito di giocare Ho guadagnato 128 punti Basta premere su finish E come vedete ragazzi Intanto il giocatore sta ancora giocando In gioco adesso Basterà premere su successo Poi ritornare nella nostra dashboard principale Ok E come vedete sono in attesa Se avrò vinto Avrò guadagnato un dollaro Verrà scritto qui sotto E avrò guadagnato Sia che vinco Sia che perdo Dei ticket gratuiti Ben 50 ticket Che andranno tutti in alto a sinistra ragazzi Questa applicazione è completamente gratuita Ok Vi lascerò il link qui sotto in descrizione Sia del gioco Sia di fake GPS Se volete ragazzi Potete mettere il codice promozionale Qui in alto a destra Nei cash Per ottenere 10 dollari gratuiti Se volete depositare Con Paypal Per giocare ai tornei Con i soldi Ebbene ragazzi Per il video è tutto Mi raccomando Iscrivetevi al canale di Felix Attivate la campanellina Se volete sempre rimanere aggiornati Su queste app Su questi giochi Che fanno guadagnare premi E fanno guadagnare soldi reali Ciao Da Felix Ciao